Oggi leggiamo Pezzettino di Leo Lionni. Il suo nome era Pezzettino. Tutti i suoi amici erano grandi e coraggiosi e facevano cose meravigliose. Lui invece era piccolo e di sicuro era un pezzetto di qualcuno, pensava, un pezzetto mancante. Molto spesso si chiedeva di chi fosse il pezzettino e un bel giorno decisi di scoprirlo. Scusa? chiese allora a quello che corre. Per caso sono un tuo pezzettino? Come potrei correre se mi mancasse un pezzetto? rispose quello che corre, piuttosto sorpreso. Sono un tuo pezzettino allora? domandò quello forte. Potrei essere mai così forte se mi mancasse un pezzetto? fu la risposta che ottenne. E quando quello che nuota emerse dalle onde, Pezzettino gli rivolse la stessa domanda. Non potrei mai nuotare se mi mancasse un pezzettino? rispose quello che nuota, rituffandosi sott'acqua. Ehi tu, lassù? gridò Pezzettino quando ebbe raggiunto quello che vive sulle montagne. Sono forse un tuo pezzetto? Lui scoppiò a ridere. Potrei mai arrampicarmi se mi mancasse un pezzetto? disse. Pezzettino chiese la stessa cosa a quello che vola, ma la risposta fu identica. Alla fine, Pezzettino andò da quello saggio che viveva in una grotta. Per caso sono un tuo pezzetto? domandò. Credi che potrei essere così saggio se mi mancasse un pezzetto? rispose quello saggio. Ma io devo essere di qualcuno? gridò Pezzettino. Come faccio a scoprirlo? Vai all'isola chi sono? rispose quello saggio. Il giorno dopo, Pezzettino salpò con la sua barchetta. Dopo un viaggio lungo e burrascoso, arrivò all'isola chi sono. Era stanco e bagnato. Che strano! L'isola era un ammasso di pietre, non un albero, non un filo d'erba, ma soprattutto nessuna creatura vivente. Pezzettino camminò e camminò su e giù, finché esausto, inciampò e cadde. E si ruppe in tanti piccoli pezzettini. Quello saggio aveva ragione. Pezzettino adesso sapeva che anche lui, come tutti, era fatto di tanti piccoli pezzi. Si ricompose e quando fu sicuro che non mancasse neanche uno dei suoi pezzetti, tornò alla barca. Remò tutta la notte per arrivare a casa prima possibile. Tutti i suoi amici lo stavano aspettando. Io sono me stesso, gridò Pezzettino tutto contento. I suoi amici non erano sicuri di aver capito quello che Pezzettino intendesse dire, però sembrava felice e così si sentirono felici anche loro. Grazie per averci ascoltato. Per non perderti le nostre storie, iscriviti alla newsletter sul nostro sito www.raccontiperbambiniliberi.com. Ciao!